Musica Uno degli annossi problemi che vive la nostra comunità e che certamente non va neanche in vacanza e non ha il tempo neanche di potersi distrarre e prioritariamente, proprio perché siamo in piena estate con tutte le emergenze, è quella della raccolta dei rifiuti. A Caltagirone c'è un problema annoso che trova sempre difficoltà a trovare soluzioni perché il Comune è in dissesto, perché ci sono difficoltà ad avere liquidità, quindi il Comune non può pagare la Dasty che è la società che fino al prossimo 30 settembre dovrà garantire la raccolta dei rifiuti e questa ovviamente non avendo, non recependo le rimesse da parte del Comune non può soddisfare le spettanze dei propri dipendenti che sono gli operatori ecologici. Di qualche giorno fa la ventilata ipotesi di uno sciopero che poi è rientrato per la buona mediazione con l'amministrazione comunale alla luce di questo ci sono stati degli impegni che sono stati assunti dall'amministrazione comunale di Caltagirone che pare oggi non siano stati non pienamente soddisfatti, non sono stati pienamente nella disponibilità così come si aspettavano, così come era stato promesso agli operatori ecologici proprio qualche giorno fa. Ci ha chiesto di intervenire Vittorio Cusumano, uno degli operatori ecologici. Come sta la situazione e qual è la sua preoccupazione? Allora noi siamo preoccupati perché un paio di giorni fa tutte le sigle sindacali sono stati al Comune parlando con l'istituzione, non so con chi perché non mi interessa neanche pronunciare i nomi perché non ho interesse, l'amministrazione perché per me non sono cose personali, bravo. Sono venuto al cantiere dicendoci che il Comune aveva assicurato che faceva un pagamento del cannon alla Dasti di 300 e qualcosa mila euro e invece si è verificata una buffonata perché hanno fatto solo un mandato di 100 mila euro e la Dasti viene a dire io con 100 mila euro vi posso dare il 50% dello stipendio ma a me non mi interessa, io voglio lo stipendio per intero perché c'è luglio, già quasi stiamo maturando il secondo stipendio, non è una cosa giusta il comportamento che ha l'amministrazione comunale di Cartagirone perché non sanno prendere solo in giro le persone, ora io domani so che deve scendere l'assessore un'altra persona molto importante del Comune, per me se non scendete è uguale perché tanto la vostra presenza a me non mi interessano le prese in giro, a me mi interessano i fatti e tengo a precisare che non possiamo fare gli scioperi perché c'è la franchigia ma come finiscono le franchigie noi faceremo sciopero il 16 di ottobre e facciamo anche degli assembrei a mille per mille e poi un'altra cosa ancora che tutte le istituzioni che chiamano i colleghi all'operatore ecologico tutta questa confidenza, noi di voi confidenza non ne vogliamo, voi siete il sindaco, io sono l'operatore ecologico lei mi paga, buongiorno e buonasera, confidenza non ne vogliamo più da nessuno e se no scendete domani è meglio perché tanto la vostra presenza lì sotto non è gradita. Stop. Una situazione certamente non facile, una situazione che questa amministrazione si è trovata addosso ad affrontare, ricordiamo che l'amministrazione Iopole è insediata soltanto da un paio di mesi quindi credo che anche questa sia un'attenuante operativa diciamo ecco quindi questa amministrazione deve affrontare le emergenze e le emergenze sono anche quelle della raccolta dei rifiuti ma è chiaro che la preoccupazione dei dipendenti della Dasti o comunque degli operatori ecologici è proiettata a fine settembre quando la Dasti andrà via e se la Dasti resteranno delle pendenze perché subentrerà la nuova ATI per i 14 comuni del comprensore è chiaro che poi saranno i dipendenti ex ATI e ex Dasti che dovranno andarsi a recuperare in modo proprio le loro aspettanze credo che questa sia anche la preoccupazione e poi volevo dire questa è la prima cosa, una preoccupazione importantissima perché se la Dasti se ne va noi avevamo problemi poi la nuova azienda ci pagherà fra due mesi sono ancora più problemi ancora poi io tengo a precisare che noi, almeno io, di prima persona mia i sindacati non li credo, non offendo nessuno però io non posso subire che il sindacato arrivi a dire il sindaco ha detto, l'assessore ha detto ma sono sempre le solite politica ma io politica non ne faccio perché io raccolgo spazzatura la politica è una cosa il mio lavoro è molto gratificato ma per loro non è così vuol dire che noi provvederemo a fare degli scioperi, degli assemblei e sicuramente sarà così e poi ne parlerò poi tengo a precisare perché qualcuno dei miei colleghi non è voluto venire nessuno forse hanno paura o qualcuno li minaccia io ho paura e non ne ho di voi, di nessuno completamente perché non penso che siamo comunque io tengo a precisare che sono molto ramaricato io e i miei colleghi e ripeto a dire anche che qualcuno del comune che deve scendere domani a fare politica è meglio che non scende perché la politica ve la tenete al comune noi raccogliamo spazzature perciò non ci possiamo confrontare tra politici e persone per bene noi che siamo di gratificazione zero perciò voi vi state dalla vostra parte noi ci rimariamo dalla nostra parte non devo dire più ma i sindacati che abbiamo visto sempre presenti diciamo ecco in questo momento invece che posizione stanno assumendo così chiamiamole per nome i sindacati stanno assumendo che qualcuno del comune non so chi sia hanno il telefono facile e si sentono e fanno levare sempre determinate cose gli assemblei chiamano non ne fate, fatelo cioè c'è qualcosa che non va perciò noi come operatori ecologici non crediamo più neanche ai sindacati ma io non metto in dubbio che i sindacati sono persone non per bene perché sono migliori di me però giocano troppo facile con le persone a telefono del comune hanno troppo contatti e non va bene perché un sindacato deve avere contatti con l'operaio, l'operatore non favoritissimo leviamo questo facciamo questo non lasciamo il paese l'urdo puliamo il paese ci vogliono i soldini per pulire il paese se no il paese chi se lo vuole pulire se lo va a pulire bene questo è il quanto affermato da Vittorio Cusumano dipendente della Dasti che aspetta giustamente anche le sue aspettanze assieme a tutti i suoi colleghi in bocca al lupo seguiamo ancora questa vicenda grazie 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 a tutti.